Spagna, lo governo va in incontro alle richieste dell'indignados, speranze per qua va a pagare lo finanziamento per la casa. Afghanistan, attentato contro le militari italiane, moro un capolar maggiore e Nauta resta feruto. Parlamento italiano, bucciata alla Camera alla proposta per l'abolazione delle province, decisiva risultato l'assenzione del Partito Democratico. Trena a forte velocità, continuano gli scontri durante le manifestazioni notave, arrivano magari le black bloc, quasi rucento le poliziotte ferute. Buona sanità in Sicilia, l'assessore russo qualifica lo centro di spina bifida di Cartanissetta come centro di riferimento regionale e annuncia che la Sicilia è la prima regione a fare parte di un progetto per la gestione dell'emergenza dell'unfarto. Benedica a tutti, lo governo spagnolo annuncia che potesse accogliere la richiesta dell'indignados, lo movimento delle cittadine spagnole che ascenderon tali chiazzo lo passato 15 di maio, manifestando pacificamente, denunciando la corruzione degli politici e apprezzando la rivoluzione democratica del popolo islandese contro le banche. Sapatero annuncia che si sta preparando un decreto in favore delle famiglie che non possono pagare le errate dello franziamento per la casa, a così come domandavano gli indignados. Afghanistan. Lo passato due di giugnetto, una bomba ammazzava un soldato italiano, Gaetano Toscillo, di 29 anni, nato a Palma Campania, nella provincia di Napoli. Un altro militare arrestò feruto. Lo funerale di Stato si fece lo 5 di giugnetto, un tala basilica di Santa Maria di Lancia e la Roma. Custa morte. Lo numero di soldati italiani morti nell'Afghanistan del 2004, quando iniziò la missione ISAF a Cana 39. La proposta dell'IDV di abolire le province non passava alla Camera delle Deputate. Votaro contro lo PDL alla Lega Nord. A favore l'IDV e lo Terzo Polo. Decisivo risultava l'assenzione dello Partito Democratico. Chissi i risultati. 225 no, 83 sì, 240 astenuti. Di Pietro dichiaravo. Oggi si verificava lo tradimento generale di riprogramma elettorale di sinistra e destra. No TAV. Continua la protesta dei manifestanti contro la linea a forte velocità Torino-Leone. Domenica ci fu uno scontri che a provocare 188 ferute tra le forze dell'ordine, che arrestarono a quattro attivisti. Per la dinamica di Chiedo che succedi io, si pensa che erano presenti le Black Bloc. Una duecentina di manifestanti ferute, contuse o con il problema all'occhio per l'uso di lacrimogene. Sanità siciliana. Un solo malasanità. Assessura alla sanità Massimo Russo. Assignavo la semana passata la qualifica di centro di riferimento regionale allo centro di spinabifida di Cartanissetta, che ha diventato polo di riferimento puro paura in regione dello sud Italia. Lo passato martedì, 5 di Giugnetto, il Russo presentava in Palermo il progetto Rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia, che comincia nello 2012. La Sicilia è la prima regione a fare parte in un piano di intervento nei suoi settori, in linea con il progetto europeo Stand for Life. Lo piano vuole diminuire la mortalità in caso di infarto per mezzo ad una corretta gestione per l'emergenza, con ospedale attrezzate con età di terapia intensiva coronarica. Un poco di scanto e di preoccupazione per le scosse di terremoto che ci furono in Sicilia, una stasemana e la passata, soprattutto nella messinese, ma non do danno a persone e cose. Proprio una stagione a Messina trassiò a fare parte dello sistema di allerto nazionale e lo passato lunedì la protezione civile di Messina presentava un videospot con le indicazioni per i cittadini, in caso di mare moto. Lo passato martedì, l'usinno che all'assessore, alle pubblici travaghi del comune di Catania, consegnarono la citata un pezzo di pista ciclabile di un'ottantina di metri, cioè la via Paternò e la cazza Santo Spirito, che prima era usato come parcheggio abusivo e capolinea per l'autobus. La passata domenica, chi di Giugnetto, a Mals, Venosta, nella provincia del Bozzano, ha cominciato il ritiro della squadra di pallone di Palermo. Tra chi di risere A, l'Irosanero sono la prima squadra a ghiere il ritiro, avendo a ghiocare la prima partita preliminare di Europa League, l'U28 di Giugnetto. Tennis, l'userbu Novak Djokovic battì un finale a Rafa Nadal, tronfanno un torneo di Wimbledon. La cieca Petra Kvitova vinciò lo singolare femminino, mentre lo doppio io agli frati americani Bob e Mike Bryan. L'U28 di Giugnetto cominciò a Palermo, a Palazzo Steri, lo festival internazionale di documentari, sole, luna, festival. Chi stanno arriva alla sesta edizione, 30 di documentari a concorso. Si chiudi sta domenica decidi, Giugnetto. Taormina. Dopo lo successo di la passata edizione, ritorna l'appuntamento siciliano colù Taormina Jazz Festival, di l'U18 all'U24 di Giugnetto. Gli concerti si tenono nella villa comunale di Taormina all'innovo immenso di Sira, cutta suta libera. Questo è tutto questa settimana. Ne veremo lo prossimo venere. Salutiamo! Gli concerti si tenono nella villa comunale di Taormina all'U24 di Giugnetto. Grazie a tutti!